bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono alex di ctv e oggi siamo ritornati con un nuovo tutorial come potete vedere oggi faremo praticamente il tutorial di un'altra applicazione che si chiama around station allora a che cosa serve questa app praticamente quando sei in una di queste stazioni praticamente puoi vedere anche da casa si può vedere anche da casa i treni e i negozi disponibili in queste stazioni e praticamente adesso andremo poi a vederla comunque ecco il primo passo da fare allora questo app intanto si chiama around station che praticamente è molto simile all'applicazione di trenitalia solo che un tantino più avanzata perché praticamente mi fa vedere anche i negozi tipo guarda ragazzi adesso il primo passo da fare è di andare a cercare la stazione che vi interessa io ad esempio scelgo torino porta nuova clicco entra e dopo adesso fa il il caricamento e con molta molta calma mi si aprirà una pagina del genere dove potremo appunto vedere tutte le cose tipo gli orari dei treni come prima cosa poi promozioni le negozi i negozi e i ristoranti le mappe le news le notizie e gli eventi e il wifi tipo ad esempio scopri il wifi gratuito in stazione ci clicco sopra e verrà poi verrà poi questa pagina di informazioni adesso la vado a chiudere e ci clicco sopra tipo orario treni no adesso aprirà la pagina ecco praticamente qui adesso potremmo scegliere per vedere da adesso siamo sulla parte delle partenze per cambiare e andare sul tabellone degli arrivi basta cliccare a torino porta nuova e poi vedete qui sotto che cae che i trani cambiano praticamente poi possiamo scorrere per vedere tutti i treni che ci sono in quest'arco di ore per esempio il chiamo dato di una volta nuova possiamo sempre andare a scorrere e fare queste cose poi c'è proprio lo spazio specifico qua per cercare il numero del treno e la destinazione così poi verrà a trovare in mezzo a tutta questa lista poi adesso chiudo la pagina e poi andiamo su shopping e food io ragazzi vi consiglio molto un negozio che si chiama si chiama feltrinelli express che praticamente si trova al primo piano di porta nuova eccolo qua andiamo a cercare andiamo a aprire la pagina io ci sono stato più o tre volte qua devo dire che mi è piaciuto davvero molto soprattutto per il vasto il vasto assortimento anche di videogiochi ecco qui praticamente ci sono scritte tutte le le informazioni non so se se si riesce a vedere molto bene perché la qualità di questa registrazione fa veramente cagare non so neanche come mai questo comunque è il massimo della qualità che posso avere con mobizen piccolo potete anche stoppare il video se volete leggere perché questo è un video cioè allora ricapitolo questo è un negozio che io praticamente vi consiglio veramente molto comunque comunque ragazzi dire che posso finire qui se il video vi è piaciuto come al solito lasciate un commento e un mi piace spero di essere vi stato d'aiuto se non siete ancora iscritti iscrivetevi noi ci rivediamo nel prossimo video bello ragazzi